Il 26, Rosalia ha una figlia che presto si sposa. Sono proprio evidenti le nozze, ma questa ragazza è nervosa, piange, non è lei e la mamma ha capito il perché. Questa ragazza ha paura della prima notte e allora, per non far sì che il marito alla prima notte dica a sua figlia, tua mamma non ti ha detto niente, allora le dà dei buoni consigli. La fiera sposa, ma dunque, l'è tanto tempo che tutt'l'anni che te l'estavi qui da smesso di patate? E adesso che a te tre ha maricato con qualche due dì, perché ti carani? Proprio adesso che tu ti doni, ti guadagni, ti piangi, ti lamenti, ti amati. Al papà, ma non fai male, per sicurato, l'è una bella supa che ti avvalli. Che paura tu fai se tu sei un matrimonio? La stanza, fiole, le giacombele è pronte. Ti fa servir, e la sua madaltoni. E quando non finirebbe un ponte di ponte, sta ferma, Lucia. Perché il demone ha l'eroe si brutto alla proponte?